Sono stato eletto sindaco di una città che ha mille colore, che ha mille sfumature. Io non cito mai il Movimento 5 Stelle perché io credo molto nei valori delle istituzioni e rispetto ad altri che fanno campagne elettorali, che fanno cose rispetto al proprio partito, non dico che sia sbagliato, ma essere rappresentante di tutti vuol dire magari non notare anche le sensibilità politiche singole e cercare di dare l'esempio, di cercare di affrontare i problemi al di là dell'ideologia politica. A differenza di altre volte non è stato al V-Day di Genova, come mai? Ero via per lavoro perché ero a rappresentare il mio comune, il nostro comune gemellato Cabourg-en-Bresse in Francia. C'era una fiera agroalimentare in cui i nostri produttori portavano i prodotti del nostro territorio e quindi mi sembrava importante essere al loro fianco. Loro tra l'altro ci tenevano anche molto. Ci teneva anche la cittadina che non aveva più visto direttamente un sindaco dal 1995 e quindi tra il lavoro e la responsabilità e andare a un evento in cui avrei rincontrato tante persone amiche, ho scelto il lavoro. E come sono i suoi rapporti con Grillo in questo momento? Quelli che sono sempre stati. Nell'amministrazione di tutti i giorni, detto più valore, a volte non è che ci sentiamo, ci confrontiamo su quello che c'è da fare in tutte le cose, quindi è un po' che non ci sentiamo. Nel libro c'è un passaggio in cui dice che a volte rispetto a quello che Grillo dice bisogna usare un bel chi se ne frega. Sì, ma nel senso, ma non rispetto, come dirà lui, o rispetto a cercarci adesso il pelo, rispetto al dire, non mi faccio la domanda rispetto a un'azione di governo, dell'amministrazione, se cosa penserà l'opinione pubblica e quindi cosa penseranno, come dire, i cittadini, che era il consenso, ma quindi neanche pensare a cosa penserà Grillo o quanto tale. Io penso a fare il bene dei miei cittadini e penso che quello che vorrebbe anche lui, perché la cosa più importante è quello che i cittadini pensano e percepiscono e qual è il loro risultato. Quindi io sono convinto che, come dire, sia allineatissimo con me, che non serve seguire la linea di partito, se no saremmo uguali agli altri. Non è che quando faccio una cosa o facciamo una cosa mi faccio la domanda cosa avrebbe fatto Grillo, cosa avrebbero fatto gli altri, cosa avrebbero fatto loro. Mi faccio la domanda cosa serve ai cittadini. Tante volte i giornalisti, che fossero più attenti al blog di quanto non si faccia localmente, ti chiedono, hai visto è uscito questo, tu cosa ne pensi? Ma io magari non l'ho neanche ancora letto. Ci vado dopo che mi chiedono cosa ne penso di vedere. Ma io faccio un'altra cosa. Io ho mille mail da guardare, ho dei cittadini da incontrare, delle associazioni, dei problemi da risolvere. Non è che passo la vita davanti al PC per vedere cosa succede. C'è una fronda del movimento che è scontenta appunto dei toni utilizzati da Grillo e da Casaleggio. Non sono le spaccature che aiutano a crescere. È il confronto, è il, se uno pensa che ci siano dei problemi, è confrontarsi, non è la spaccatura che risolve niente. Una volta che ci sono dieci gruppi da dieci, invece che un gruppo da cento, voglio dire, la forza ce l'ha il gruppo da cento. Quindi è evidente che bisogna rimanere insieme discutendo e trovando delle soluzioni se qualcuno ha dei problemi. Si possono fare dei miglioramenti nella selezione dei candidati anche in vista delle europee? I miglioramenti si fanno sempre. Si fanno nelle amministrazioni, si fanno anche nei processi di selezione. Quindi un processo può essere sicuramente migliorato. Non so dirvi adesso come, quale può essere il processo di selezione rispetto a quello che abbiamo applicato nel locale. Però essendo persone che si conoscevano, ovvio che abbiamo fatto delle discussioni, ovvio che si è risposto a delle domande per dare ognuno, ad esempio, la propria visione di quello che si vuole fare. Ma nel locale è molto più facile trovare un metodo nazionale quando per anni si è scelto non per capacità ma per appartenenza. Quindi già il metodo che si è adottato, che quindi è essere selezionati dai cittadini, è comunque un passo avanti. Quindi non bisogna vedere solo il male. È comunque un passo avanti nel quale si possono aggiungere magari anche delle altre caratteristiche.